caro che gratta vinci, gratta e vinci avete? minchia ragazzi ce ne sono un botto qua ce ne sono un botto di gratta e vinci caspita c'è l'imbarazzo della scelta ragazzi aspetti eh i milardari qual li avete? da 5 quello da 10 non ce l'hai? napoli, napoli, napoli va a vedere, posso vedere? ragazzi cosa facciamo? un miliardario da 20, due miliardari da 10 oppure 4 da 5 oppure 2 da 5 e 1 da 10 figa non lo so, figa figa non lo so 4 da 5 4 da 5 4 da 5, sì sì, miliardario figa dai che si sbanca oggi cazzo oggi si sbanca cazzo oggi si sbanca cazzo dai che sbanchiamo figa 1, 2, 3 e 4 figa buono dai figa questi li scarico da lì va figa questi li scarico da lì va figa grazie Silvietta Luca e la lepra e il pisci rosso cazzo ma che messaggio sgradevole e maleducato grazie Davi per i cento grazie grazie Del Plame per il Prime grazie Cucciolo il Plane scusami figa grattiamo or codio no gli appiati che sono gialloci figa grattiamo or codio non sono anche capace di fare una cazzo di gag dai let's go guys 4 grattavinci da 5 euro siamo già in profit di un centesimo let's go grazie Pablo grazie Pablo per il Prime molto gentile Cucciolo molto molto gentile andiamo figa cazzo iuri dai figa grattiamo figa dai cazzo figa maglietta rossa ma cosa stracazzo guardi sai che il ragazzo davanti a te ha 300.000 follower ma non rompiamo gli del padre ragazzi grazie Lore Gab Mastella è ancora ubriata sto scherzando mi dissocio quanti vite per farti muovere da Milano tra adesso nessuno grazie Simo per il Prime let's go guys let's go iniziamo allora come posso fare una bella inquadratura così vedete bene no guys voilà a numeri vincenti 21 18 19 43 46 let's go let's go let's go 20 merda 23 merda 22 merda 40 merda grazie Tommy Villa per il Prime grazie cucciolo 16 merda 34 merda 17 merda 29 merda 13 anche questo inutile 42 niente 36 niente 33 niente 31 niente a posto guys siamo stati scammati siamo stati scammati guys vediamo qua siamo stati scammati guys c'è sta c'è sta dai è solo il primo ragazzi è solo il primo nessun problema bisogna crederci guys bisogna crederci è solo il primo cazzo non gratta un cazzo la moneta da un centesimo proprio scomoda guys sono proprio un poveraccio sono cazzo cazzo ragazzi cazzo ragazzi non va bene non va bene guys è un gratta e vinci andato ne rimangono altri tre ne rimangono altri tre grazie Lore per i 145 ciruno 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 se il pomeriggio è iniziato con i gratta e vince non so come possa finire nemmeno lo so neanche io Lore devo essere onesto porco di ass proviamo vai guys aspetta prima facciamo qua va prima grattiamo i numeri sopra cioè sotto e non quelli sopra poi dopo grattiamo i numeri vincenti ragazzi dopo grattiamo i numeri vincenti allora ci sono il 36, 33, 40, 13, 42, 32, 24, 39, 11, 26, 23, 31, 37, 29 e 21 bisogna che ci sia uno di questi tre numeri vincenti let's go 45 non gliel'abbiamo 18 non ce l'abbiamo 15 non ce l'abbiamo 43 43 cazzo non ce l'abbiamo un cazzo ma è possibile che sto perdendo tutto è possibile ciao cucciolo come si fanno a mandare i sound alert e l'amora dietro di te Mattia no ma che cazzo scrivi Mattia sei uno stupido cazzo non è possibile che ho perso un nuovo di nuovo tutto cazzo fra neanche un 5 euro mi hai ridato dai fra ma sei serio no fra ma dai niente ragazzi ci rimangono solo due grattevinci ci rimangono solo due grattevinci ed è per questo ragazzi voglio farvi capire che non bisogna giocare non bisogna giocare non bisogna giocare io lo sto facendo solo per farvi vedere un servizio giornalistico importante guys ma non bisogna giocare amici miei non bisogna giocare grazie Gianlu non giocate mi raccomando ragazzi non dovete assolutamente giocare no mi devo risociare mi devo risociare assolutamente allora ragazzi andiamo va speriamo a cambiartere giù l'inquadratura porco giuda 46 ragazzi cosa faccio gratto prima i numeri normali o gratto prima i numeri vincenti secondo voi scaramanticamente cos'è la cosa migliore prima i numeri vincenti o quelli normali massima grattiamo ma che cazzo ce ne frega grattiamo i vincenti dai grattiamo non gliene frega un cazzo tanto scaramanzia o no sempre questi numeri ce stanno sotto porco dias ok buono non abbiamo vinto un cazzo buono non abbiamo vinto niente buono non abbiamo vinto ancora un cazzo buono perso pure questo buono ma porco di dio no por no 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 la blasfemia Gabriele no 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 grazie Ugo Ugo grazie no Gabriele no blasfemia per favore no blasfemia no blasfemia che già sei famoso solamente per per essere un molestatore seriale se poi inizi a bestemmiare tutto il tempo poi inizi a diventare famoso solo per le bestemmie come il masseo e non va bene Gabriele non va bene bisogna cercare le aziende cazzo bisogna cercare le aziende ho perso pure quell'altro comunque ho perso tutto porca miseria ho perso tutto ho perso tutto ho perso tutto ragazzi si vince un cazzo non giocate a sta merdata qua non ho gli occhiali pure rotti ho gli occhiali rotti occhiali rotti cara vorrebbe grattare che gratte vinci al posto mio per scaramanzia ti va? grande vai 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 te lo lascio grattare a te prego questa è la monetina devi grattare? allora qua sui numeri vincenti e poi sui numeri normali ti raccomando vediamo il numero vincente è 13 vai tu gratta tu gratta con violenza con decisione sapendo che lì sotto ci sarà un gratte vinci vincente da 100 euro io sono un po' sfigata però eh ma nessun problema dai speriamo in bene speriamo in bene no ma che cazzo scusate c'è un messaggio che aprirà la cassa strano no Mattia mi devo disgregare allora i numeri vincenti sono 13, 30, 46, 11, 42 abbiamo 26, 41 ok 36 ok e devi grattare sì ok 27 va bene 25 ok cazzo ah no era 13 ma hai fatto prendere un colpo mannaggia a te mannaggia ok ok Gab questa ragazza è molto bella ma ha una cena insieme a lei vi vedrei molto bene e onestamente prima però chiedi quanti anni ha 17 no non è vero li avete hanno 18 anni stanno facendo una gag hanno 18 anni le ragazze hai 18 anni vero cara si si hai 18 anni hai 18 anni 18 anni cazzo perso pure questo no non è possibile che sono persi tutti e tre cioè tutti e quattro mi dispiace non ti ho portato fortuna mi puoi grattare anche questo qua qua sotto no ragazzi sto male ma tanto niente eh manco 5 ore no qua qua devi grattare qua sul premio massimo si che c'è il codice vado a far vedere magari grazie Julius minchia ragazzi che sfiga care dozzelle il ragazzo a voi vicino è diventato milionario grazie ai gratta e vinci ed ora fa la bella vita ma magari non è vero ragazzi non è vero non è vero grazie grazie per il centesimo è stata l'unica cosa che ho vinto con questi gratte vinci vi ringrazio vi ringrazio grazie a tutti